Con un gol per tempo, il Suzzara punisce gli errori dell'Asola e si aggiudica il primo derby mantovano di promozione del 2022, allo schiantarelli ieri un match equilibrato, ma a fare la differenza è stato il cinismo delle zebre che, ai punti, hanno creato anche qualcosa di più a livello di occasioni. Le prime chance già dopo circa 5 minuti per gli ospiti, su altrettanti corner. Prima va fuori la deviazione di Caramaschi su appoggio di Messori, poi è Bozzolini a non inquadrare lo specchio da buona posizione. Al tredicesimo e al diciottesimo il Suzzara prende ancora l'iniziativa, ma i tiri di Messori e Marangi sono troppo deboli per impensierire Marcolini. L'Asola ci prova poco dopo con Favagrossa senza fortuna, ma la chance migliore c'era al ventiquattresimo quando il tiro ancora di Favagrossa, respinto corto da Zapparoli, non trova il taping né di Iavarone né dell'infortunato Ferrara che uscirà poco dopo. Al trentaquattresimo l'episodio che sblocca l'incontro. Chiari fa blocco in area su Bozzolini che cade dopo un tocco di Luca Favagrossa. L'arbitro stirba di Brescia non ha dubbi e decreta il rigore. Dal dischetto si presenta Vincenzi che con una trasformazione impeccabile sigla l'uno a zero. L'Asola prova a reagire al trentaseiesimo slalom di Iavarone tra i difensori ospiti, ma le zebre riescono a sventare la minaccia. In chiusura di frazione, corner di buon aiuto, Andrea Favagrossa tenta il colpo da calcetto, ma la palla viene deviata fuori. Con il tifo e le bandiere al vento dei Susarese, presenti anche ieri in buon numero in trasferta, passiamo alla ripresa. Mister Tavelli prova a cambiare l'inerzia dell'incontro inserendo il fantasista Nardi per il difensore Mingardi, ma il Suzzara a creare la prima chance con il baby Moretti, bravo a indirizzare in porta la sfera su cross preciso di Caramaschi. Poco dopo, buon aiuto ruba palla a Zapparoli, ma in modo irregolare e l'arbitro fischia fallo in attacco. Moretti al quarantottesimo ci prova ancora, ma il tiro è troppo telefonato. Si fa vedere Nardi al sessantacinquesimo, quando prova a servire Moreni, ma il tentativo non va a buon fine. L'asola prova ad alzare il baricentro, ma il Suzzara trova il raddoppio. Error raccio difensivo di Chiari che regala palla a Moretti, il quale non ha difficoltà a saltare Marcolini segnandolo 0-2. Per il prodotto del Vivaio, classe 2003, è il primo gol in promozione. Il raddoppio ospite per i biancorossi è una mazzata. Uno degli ultimi ad arrendersi è proprio Nardi, che impegna su punizione Zapparoli all'ottantaquattresimo. Ma nel recupero sono le zebbre a sfiorare il tris. Prima Guastalla spara fuori da buona posizione. Poi l'altro baby Torelli, servito bene ancora da Guastalla, viene murato dalla doppia respinta di Marcolini. Tre punti dunque al Suzzara, che ringrazia i tifosi e torna in zona playoff. Ecco le impressioni a fine gara del mister asolano Lamberto Tavelli e dell'attaccante suzzarese Elia Moretti. Prima di tutto merito al Suzzara, che ci ha sempre creduto, ma la differenza è stata proprio questa. Che loro hanno commesso meno errori, invece noi ne abbiamo commessi due diciamo abbastanza palesi. Secondo poi ci ha tagliato le gambe. Era una partita che sicuramente visto i valori in campo, forse poteva stare sul pareggio. Io dalla panchina l'unica cosa con molta onestà che ho sentito, ho sentito un rumore. Poi i ragazzi mi hanno detto che non l'hanno toccato, però devo dire la verità che anche io se fosse stata da mia parte avrei gridato il rigore, con molta serenità. E soprattutto dico l'unica cosa è l'errore lì, perché un giocatore girato con le spalle alla porta, tre di noi, non puoi andare a prendere un rigore. Non faceva niente che scaricare la palla dietro, eravamo lì, l'avevamo circondato e non poteva fare niente. Lì abbiamo commesso l'errore, però devo dire che dopo siamo sempre stati in partita, abbiamo avuto anche noi i nostri episodi. Nel secondo tempo, ripeto, l'errore, soprattutto poi fatto da Chiari, che fino allora è stato uno dei più positivi, ci ha tagliato le gambe sicuramente. Lì è stata un'ammazzata. Elia Moretti, primo gol in promozione, sensazioni quali sono? Positive, poi la squadra mi aiuta, quelli un po' più anziani mi seguono, mi chiedono sempre dei consigli, insomma, mi trovo molto bene anche col gruppo. Anche nel primo tempo hai avuto un'occasione o due per segnare, però sei stato un po' indeciso. Sì, sì, devo mettermi anche un po' su, un po' più di forza, così. È stato fortunato che il difensore lì non è riuscito a passarla bene al portiere, comunque è andata bene, è andata bene.